quindi come vanno a vedere, questa decorazione è però adulta, con questa glassa come funziona questa decorazione ha da creare uno stampo, questo stampo è da poi si vanno a porre sei pastizzino che vanno a decorare in noga, però se vanno a decorare la decorazione è superiore, questo è un lievito, in generale è superiore sul filmato che vanno a fare quindi l'abbiamo a vedere è terminata, quindi l'abbiamo a porre questa decorazione e da poi si vanno a cercare la decorazione con il suo stampo, il suo stampo però decorare è questo questa tipologia di stampo, in direttamente l'abbiamo a porre questa decorazione con questa glassa e da poi si l'abbiamo a cercare, e questo è questo stampo per questo pastizzino, per questo casie, quindi questa l'abbiamo a porre in drento a una de abba bollente, quindi una ventola de abba, casie, questa sidenola è ora poi apposta a casie, quindi questa è già bollente, calde, è già calde, quindi in questa ventola noi la paghiamo e poniamo questa glassa, e esattiamo su chi è si scioglie, ok? da voi i serrami, serrami su uno pezzo in noga, serrami su questo pezzo, con sei volvezza casie, e tutto questo è pronta, ok? Quindi, da voi, leiamo su, a provare questa pasta, a provare questa pasta, poniamo su il sauce, sa varina, sa varina che è questo, sa varina con su lievito e su zucchero, quindi su zucchero, questo zucchero, sa varina, su zucchero e uovo, ok? su, farina, uova, battolo, eh, questo è lo battolo, po' normale, eh, una, due, tre, tre, ho detto, questo è questo, è, queste ova, non in commercio, eh, questo è queste ova, eh, le ha da, da, no, normale, da voi si poniamo su sul zucchero, le ova le ha da, 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 da allevamento rupestre, ok? Poniamo su sul zucchero, hm, così, eh, eh, si, c'è che uno, che eredare, un, un, un saor di, di verso, va deporre, puro su miele, ok? Quindi poniamo su, puro su miele, eh, gasie, hm, pro dagale, un, un lizzeru, sa ore, eh, pro, de su zucchero, eh, di verso, eh, da voi si poniamo su, 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 su lievito, ok? Del lievito, lievito, quindi basta madre, basta madre del lievito, ho, un atero lievito, comune, eh, non è che, hm, quindi, andiamo in un su gasie, eh, e da voi si, eh, frolliamo su tutto, con un su, sa trudda, hm, frolliamo su tutto, con sa trudda, la gasie, eh, ai settembre, che su tempo, eh, siamo su quasi a, battere, a treze minuti, so chiama su posto su, sa glassa, a, 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 faghere su, tesinata, eh, alla faghere, eh, sciogliere, pro, itte sa glassa, gasie, stè pedra, no? organizziamo su, puro, su sovrattempo, comente, organizziamo su, su, tesinata, eh, sai stampo, eh, organizziamo su tutto sai stampo, eh, e poniamo su sa glassa, da voi, no? Quindi, continuiamo su a preparare, lasie, preparare, ecco, Bada, este troppo, troppo liquida, comente a cosa, no? Comente a cosa este troppo liquida, quindi, potremmo soppone, eh, ponere, eh, puro, qualche cosa de, de burro, eh, potremmo soppone de burro, eh, un opaco de burro, eh, quindi, casie, eh, poniamo su su burro, eh, eh, pro, dagli, ai zeddu de, eh, de amai gama divvessa, no? Quindi, casie, le damo su, su burro, eh, puro dagli, ai zeddu de, eh, de amai gama divvessa, eh, eh, pro itte la, sa basta, no este, meda, comentesi narata, no este, meda, eh, asciutta, no? Lamo su de zilare, finzialmente, candor, non diventa, meda, meda asciutta, casie, eh, ok? Finzialmente, candor, non diventa asciutta, eh, la voisi, la vorimusù, eh, este, este pronta, apro, a esettare, a salta lievitazione, eh, quindi, da poi si, i cerriamo, su, de, uno trucco, che bada, candor, no, so, sai, pentola, in questo caso, custe so adatta, sa pro sei furro, no? Candor tu e la poniti in diretta su furro, custe este adatta, hm? Ma, si, invece, della ponere in diretta su furro, gasie, tu e, la ho disiponere, eh, in diretta, ha una normale, eh, padella, eh, chino bada, custa tipologia de, eh, creazione, eh, la, de, eh, de trattare diversamente, ah, bada, musupuru, cu do procedimento, pro il trattare diversamente, sa pa dedda, eh, in questo caso, eh, pro trattare diversamente, sa pa dedda, pro il fagre, eh, chie, custa tipologia de basta, eh, custa tipologia de basta, eh, custa tipologia de basta, no s'attacchia, ok? Quindi, come l'hanno so posto, un uvago del farina, impruso, pro, eh, evitare che, eh, si stacchete troppo, eh, mordica, 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 appiccica, appiccica, quindi, mordica, mordica, appiccica, appiccica, no, che piacchete a noi, si è, al de mantenere sa distanza, da esammano, so, così, no? Al de mantenere questa distanza, quindi, eh, continuamoso, eh, 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 Quando, eh, quindi, sa basta e ste pronta, no? Come l'hanno so, de, eh, fagre sa posizione, pro la vorre, indiretta si stamposo, no? Quindi, faglimo so, tutta sa posizione, pro la vorre indiretta si stamposo, eh, E, eh, quindi, non si stamposo, eh, te pruso, manco da si, eh, considera, sa chi è, eh, il te burro troppo, pro i te custa, al de lievitare, e su tempo, le lievitazione este, este manno, pro i te su, sa va sta madre, eh, zirriada, quindi, sa dimensione este custa, zirriada, chie, eh, eh, pro sa lievitazione, sa va sta madre, al de essere, de, una lie, quindi, gasiè, non da man, man, quene, hm? Da voi si, le faghe del custo, come, eh, al de essere una vie, sa lievitazione, e continuamo su casino, quindi, faglimo so a metale, eh, custo, come, e il tambarene, di custo no a te, no a te uno, quindi, continuamo su, con un paghicello de farina, hm? pro dagli, su, si staccata, sa, eh, pro faghere, chie, sa vastasi il tacchiera, hm? eh, gasie, eh, ok, quindi, uno, e, e due, sa, ok? uno, e due, sa, eh, quindi, faglimo so a spastizzo, so a spastizzino, so, con sui stampo, ok? hm? custo este so a spastizzino, so con sui stampo. custo, como, eh, no, amoso, zirriado, chie, si tu e abbaida, abbaida, chie, no s'attaccata, no? quindi, custo este uno, custa tipologia, invece, si attacca da quasi quasi a sa mano, però, custo, lo asamo sui gasi, no? e a esattamo sui lievita, da puro, si tu chi este meso, de lo, de lo torrare a faghere, pro i teste, troppo appiccica appiccica, hm? quindi, le, le damo su, uno paghicello de farina, ancora, eh? pro i te, no, no, non da ene come teste, appiccica appiccica, no? ok? ok? venga si, ok, quindi, custo este andato, hm? e custo buro, como, lo, fagheremo suene, pro leale sapiccica appiccica che bada, eh? e quindi custo este fatto, ok? e amos ho fatto su primo, su primo, su primo pezzo, no? quindi, da voi si, chi è? amos ho fatto custo, so spastico, so, eh, so pronta, eh, prosa decorazione, eh? come noi l'amo su, e ho la paghicello solo sulla sa glassa e su cacao, così, no? che bada solo questa tipologia, eh? custo due, lo puro nepporre, buro, prosa pasta, adesso adulta, eh? prosa pasta, adesso adulta, bada un trucco, eh? che magari, se rio, in un'altra, in un'altra questione, avrete, come custo lo, lo lasciamo su, a, 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 a un altro momento, ok? e custo este s'altro pastizzo, così, ok? si, so abbatterò, ne, quindi e questo, sta fatto, da voi si i,mmm, chi y amos ho fatto gusto, eh, eh, piediamo su, piediamo su, com si sa pasta, eh? che hanno fatto è la, la da damos, in diretta, in uova, quindi, damos una pulita, eh, per questa decorazione, che amos ho affonso, damos una pulita, eh, e, eh, eh, che prepara l amos, pro sa tipologia da bastizzo che siamo su vattene no? questo è una decorazione a monetta una decorazione su in aree no? una decorazione a su in aree questo quindi bel te vuole situando nel suo periodo natalizio 1 2 3 sabattro ne facchimmo su se magari volete no pro pro magari ne facchimmo su atto da voi sennò quindi questo è già pronto, dovete sennò da voi una volta che lo facete non lo potete più ritrattare quindi se la trattata è unica in questo caso quindi andiamo su alle aree con questa classe e abitiamo su che è comodo come la confezione è proprio quasi quasi è quasi quasi è stata fatta la bel te nuove su lì zero lì zero come te su coso ma allora quindi siamo su pronte la... qui la conimoso indrinto la sia quante cosa e la tardamoso prima però è stata troppo infusa quindi ma poter fare su un spazio però ne facciamo tutta questa... tutta questa... tutta questa eba che belte... tutta seba tutta sabba che belte ne facciamo su e continuiamo su continuiamo su con questa tipologia di questa classe che è bada e noga ok e da voi si la lampammo su e provo il ma... che... ma a te lo posto stare... fa la nata qua... ... e... ... sens... la voce costo al piegare sa direzione giusta quindi non è sta in piano quindi l'amuso da corrono vago non vago in piano magari di lupo oramoso custodiamo su mostri nuova di ste troppo su primo trasferiamo su da un massacro da voce se arriva da voce di rubare la prima volta questa non si vuole protettare quindi non so fare è tutto da voi si chiariamo su a questo punto a questo punto la questa è buona a dirlo a mannegare quindi da così che arriviamo su a questo punto la serramo su la serramo su un sostanzio stamposo che vado che hanno su serriato questo di stampo su in areno sono stampo su su in aree e casi e tu la biglietta vuole di 1 ok due tre batto kim allora nuova nominata non vanno che nada quindi abbiamo dovuto abitare pure su livello vada quindi continuiamo solite in un obelte la musica di tornare a pienare e trese quindi con su cioccolato e su cioccolato vali musulmai da metà cosa sa quindi come se questo è un'altra cosa diventa 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 quindi ok due e tre che vediamo su su piano è già tosto che è già già al vero vero tosto 12 se non le varie redotto questa tipologia le coro va sia no se non lo schiccio sono non parla e nene no e quindi ok quindi mi cerro mi cerro questo proiettazione da chi una volta fatto non si può detrattare però noi vivrò amuso è allo trattare una teravolta insomma ancora l'upper è ok quindi questo tipo di olfagher e comola può fatto tanto questo usa del torrano in tostare magari da voi se lo usiamo a mezzo da voi se lo usiamo a mezzo come lo lasciamo a casa e esattiamo che questo pasticcino sono diventata tostata e sto stasso so di vintende proiette come se noi vaghiamo su casino questo su custo è stesso mattesi materiale di gustono che stiamo una sorta di gomma una gomma è tu la buona in 30 una gomma casie e l'uomo in 30 una gomma fine e ne ho guardata voi si tutta la sua posizione del suo pasticcino prosa decorazione del adulta casino e quindi esattiamo su ai zedio ancora avrete noelte a bella perù tostuno quindi come tu potete abitare no che già seste i stacchende però quando si intaccata che noelte buono come te cosa un barata a gasi un barata a gasi quindi puro gusto este si staccata però su tempo di asciuttare non è stessu no quindi lo potremo su puro le aree e porre in 30 su freezer che casino a manco di tempo eh quindi lo potremo su e lo potremo in 30 su freezer ok quindi li picchiamo su e li lasciamo su un minuto in 30 su freezer e bifatto idere comente il fagere comente il fagere sa basta ok quindi li poniamo su in 30 su freezer ok casie eh uno due sa eh uno due sa trese eh li poniamo su in 30 su freezer e comente il fagere eh quando belte qualche pentola da no si vada qualche pentola dello buonere il fagere su furro eh che non resiste alla temperatura ad esempio questo è già pezzo no però questo è un vada sul pavimento eh che ovviamente non è l'antigraffio ma che non si attacca da eh invece vada che pentola eh che è di questo tipo gasi e no se tu è tratta di una pentola gasi e e le buone di questa tipologia de de pasta quando la buone di in 30 non andai ne quindi due l'alte del fagere su eh isolante però non so attaccare questa pasta l'alte buonere su burro eh tutto su burro casie l'alte buonere in sa pentola eh che hanno le buone di su burro su burro e aizzerio del farina ok non meta eh aizzerio del farina gasie camo due le buoni su cussa pentola che è bata mi condala eh se tu le buoni di cussa pentola che è bata eh ecco quindi mi ho cussa con cussa tipologia de isolamento eh come non vada in ora l'alte torrare a fagere eh con cussa tipologia de isolamento eh assa ventola non si attacca nulla ok come lo potremo su lassare puro gasi no come puro gusto gusto in questa tipologia de ehm eh isolamento non si attacca da non si attacca da manco come ok invece se lo assaiamo se lo assaiamo a gasi e che non lo puro gustare una nuca che non si attacca da manco a fagere no con cussa pasta pro fagere non dico un adulta qualche cosa qualche cosa lo puro gustare gasi eh come un gusto non si attacca si invece lo lasciata un drento a un contenitore de questo tipo eh normale che non ha questo isolamento gasi esattaccata eh quando queste cucinende quando queste cucinende in su burro attaccata, quindi questo isolamento non si attaccata, non si attaccata, che hanno due trattata su burro e su farina, ok? Da voi si uniamo su Torra e lo uniamo a Fagare e ando alle aree sos componentese da esofreezer, ok? Ando alle aree sos componentese da esofreezer, quindi sos componentese da esofreezer nella mosogata e andiamo su sdecorazione, sos decorazione chi è presumimo su so pronta, sanno? Potevamo su abitare, già su primo, su prima, da voi si culta, non este viscitae neene, però cacche cosa si comprende, no? Quindi su primo, este è questo, da voi si, abitiamo su sattero, abitiamo su sattero, bada sa forma, sa forma pillata, cacche cosa si comprende, cacche cosa si comprende, no? Una e due, ma no elte, no elte, no elte, proete si ripassa das a mano, o como, no? Abit, quindi no elte pronta, pur si elte in su frizzo e no elte pronta, quindi amus da esaltare e da voi si amus a vedere sui risultatos, ok? Como belte da esaltare ancora, eh? Prova l'odorare a ponere, e proite non este asciutto, eh? No elte asciutto. Un, due, eh? E l'umunimos su pro esaltare, eh? asciutto, eh? Facchiamo su, eh? Da voi si amus abitere i te e il te combinande, combinande, ok? Intanto, potremmo usapitare sia calche uno, no bada sa pellicola, normale, eh? Potei trattare, no bada sa pellicola, eh? No bada su mattarello, eh, scusatemi. Potei trattare sa pellicola, eh? comente mattarello, eh? Quindi, custo este uno tubo, normale, eh? Tu e lo piccata e lo tratta, e lo tratta da comente uno mattarello, ok? Lo piccata e lo tratta da comente uno mattarello, lo buonesi gasino. E lo piccata, ad esempio, ho lisi... Fagare custo piatto, eh? gasino, gasino, piga da custo, da esogoso, lo buone, e lo faccio del piatto, ok? Vi chierete uno pago di farina, eh? Vi chierete uno pago di farina, gasino, e lo faccio del piatto. Ok? E quindi il gusto deve essere diventato già... già è un... una basta, una basta sfoglia, quasi, no? In un po' da fare diverse cose, diverse cose. Poi, la dobbiamo già comporre, hm? La dobbiamo già comporre e torniamo già a fare, sono attessi, ehm... Sono attessi i pastizzini, non so che siamo già fatti andi a prima, eh? Non sai il pezzo, non so che bano, ok? Quindi, come? Continuiamo su... da poi si chiamiamo su... Ocata dai su freezer, eh? A baitare si belte qualche cosa. Se è comodo, già hai qualche cosa si beli, no? Ok? Già hai qualche cosa si beli, quasi, no? Ok. Quindi, ehm... rinnoviamo su un po' da questa terapalte, eh? E... potremmo usuridere chi è s'imitazione, hm? Però, quanto riguarda questa tipologia, vedete il suo pastizzino, non so... Come non si dè... Non so che andate, va che lui dire, eh, ne... Questo è stato uscito bene, eh? Un po' da voi si belte gustate la valte, eh, sì, no? Quindi, gusto, quasi, da voi si, ne ho chiamo su... Tutto so se... sa valte, hm? Tutto so se valte, teso coso, eh? E... Lo potete lasciare così, e lo vuole, in drento, come decorazione, Proso pastizzino, così, così, e... Oppure, oppure... eh? Lo vuote, lo vuote, puru, il verniciare con cosa? Però, con questa bomboletta commestibile, eh? Con questa... bada sia aerografo, l'aerografo lo verniciata, quindi... Sì, uno che è reso come uno bappo sul nastro, ma... Lo vi gata, eh? Lo vi gata con questa bomboletta commestibile, Lo vi gata e lo verniciata, così, no? E lo verniciata, ok? E questo lo dovrò da ponere in alto a suo pastizzino, eh? Da voi si abitiamo su satteru, hm? Proite, bisò, sò scolores... Sò scolores commestibile, eh? Sò scolores commestibile, eh? Sò scolores commestibile, eh? Fa che ne vuole, sò scolores commestibile, eh? E tu li vuote ponere in saluta, gassie, hm? Gassie, puro gusto, e stai vestito bene, eh? E stai vestito bene, ok? E poi devo fare gassie, eh? Sò spastizzino, so con gusto Uno... Due, eh? Tutto usatelo, eh? Due, eh? Due, eh? Gassie, ok? Come? Bada qualche errore, ma... Bada qualche errore, ma... Eh, bada pure il gusto, casino... Un... Ok... Lamo già usato, eh? Lamo già usato, eh? Lamo già usato, eh? brosia losa presa potete chiedere qui questa forma è bella e da voi si potete mandicare come questo questo è troppo fine qualche cosa vale ad essere che non torna questo che non dà bene è che lo mandicare e come mi la può mandicare questo ok ok sembra io davvero questo ok in caso nono lo vado a trattare con questa vernice per le pastizzerese e lo vernice da come ti piace a te ok quindi questo è andato a casa ok c'è uno che si vuole e lo potremo legare con questo glasso e il cacao come è diventato la nostra è diventato la nostra torre andrete da voler affagare il caldire ok